32esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, promosso da Comunione e Liberazione, a Rimini, dal 21 al 27 agosto 2011. Si è conclusa da poco la conferenza riguardante la figura di John Henry Newman, beato compiuto tale da Benedetto XVI nel suo recente viaggio in Inghilterra, dal titolo La certezza di Newman, coscienza e realtà, nel quale hanno partecipato padre Edoardo Aldo Cerrato, procuratore generale della Confederazione dell'Oratorio San Filippo Neri, e Xavier Prades Lopez, decano della Facoltà Teologica di San Damaso a Madrid. E proprio il rettore della Facoltà Teologica di Madrid ha voluto porre al centro come Newman sia stato veramente il personaggio che ha saputo affrontare le due sfide del tempo presente, sfide del fideismo e del scetticismo. In questo proprio Newman si è voluto affidare al cammino della ragione, avendo come primo obiettivo quello di chiarire la sua esperienza di vita, la sua vita, l'amore per la ragione, che lo ha sempre accompagnato nella sua esistenza. Dopodiché appunto l'intervento di padre Edoardo Cerrato si è soffermato soprattutto sulla vocazione di Newman nella vita oratoriana, con la sua entrata in congregazione dell'Oratorio, proprio dice questo che si è lasciato guidare dagli avvenimenti esteriori ed interiori, che lo portarono a vivere questo pienamente cattolico e pienamente oratoriano. In tutto questo Newman poi ha compiuto una conversione, che è stato quello di conoscere sempre più realmente Dio, che lo ha condotto veramente a diventare un sacerdote nella vita oratoriana. Ma perché Newman sceglie la vita dell'oratorio di San Filippo Neri? Lui dice che ha accolto la gentilezza di San Filippo Neri, che è stata la forza nata da una dolce comunione con Cristo. Infatti per Newman diventerà fondamentale guardare a San Filippo Neri per cogliere l'amicizia con Cristo, che si sviluppa in una libertà, in una semplicità, in una gioia, che ha saputo veramente cogliere in tutta la sua esistenza. Ecco che allora Newman lascia anche un messaggio nella sua vocazione oratoriana per noi tutti, cioè quello di saper cogliere veramente la secolarità della vita oratoriana, che sa immergersi nel mondo, sa immergersi nelle fatiche dell'uomo d'oggi, per donare veramente una scuola di amicizia con Cristo, quanto mai oggi necessaria per la vita presente.